Chi è Zhang Jie? Zhang Jie è una figura importante nella Cina antica. Si tratta infatti dello storico del leggendario imperatore giallo, Huang Di, e inventore dei caratteri cinesi, il sistema di scrittura usato nel paese. Secondo una leggenda, Zhang Jie aveva quattro occhi e quattro pupille, e quando inventò i caratteri, le divinità e gli spiriti piansero e dal cielo piovero cereali. Ed è così che viene scelto il 20 aprile, che ricorre nel corso del sesto dei 24 termini solari, chiamato appunto Kui Yu, che può essere tradotto con piaggio di cereali, per ricordare la figura leggendaria di Zhang Jie e celebrare la lingua cinese. Se sei interessato all'argomento, guarda il video completo sul nostro canale YouTube. Seguici per scoprire altre curiosità sulla Cina e il mercato cinese. Per esempio...